Nuova Citroen C3, Volkswagen ID.Buzz GTX, Lamborghini Lansador, Pininfarina da milioni di euro e forse un'auto elettrica firmata Apple. Ma non vi ricorda forse un pochino la Ioniq 5? E buongiorno a tutti cari amici elettronauti, questo episodio sarà pieno pieno zeppo di nuove auto elettriche. Ma prima di cominciare vorrei invitarvi alla Eco Dolomites 2023, un evento unico nel suo genere dove voi sarete i protagonisti. Sì avete capito bene perché ognuno di voi potrà condividere le proprie esperienze di mobilità elettrica. Il 9 settembre a Bolzano all'interno del parco Fiera sarà allestito un parcheggio con 1.001 vetture elettriche, le vostre, ed ogni proprietario sarà quindi un espositore. Io vi potrò fare da Cicerone, l'ingresso è gratuito ma è necessaria comunque l'iscrizione, quindi mi raccomando andate nel sito che trovate in descrizione ed iscrivetevi. Ed ecco un nuovo video render di come probabilmente sarà la nuova Citroen EC3, commercializzata in Europa e basata sulla nuova piattaforma Smart Car di Stellantis, condivisa probabilmente con la prossima generazione di Fiat Panda. La C3 garantirà oltre 300 km di autonomia nel suo allestimento base, il cui prezzo di partezza sarà intorno ai 27.000 euro, con incentivo intorno ai 22.000. Tutti sul mercato stiamo aspettando questo genere di veicoli elettrici e chissà se riuscirà ad arrivare in Europa prima dei modelli cinesi. Si parla molto infatti anche di BYD Seagull. Il nostro caro amico Gianfranco Franzosi ci ha scritto un bell'articolo su elettronauti.it, quindi andate a dargli un'occhiata. Rimanendo in Cina, ricordate il marchio Leap Motor sta per arrivare in Europa e si presenterà ufficialmente al Salone di Monaco 2023 questo settembre. Inizierà la sua corsa nel vecchio continente importando due dai suoi cinque modelli. Nello specifico si tratta del SUV C11 con 536 cavalli, batteria da 90 kWh e 550 km di autonomia. E la Berlinona C01 che sotto il punto di vista tecnico sarà uguale, ma grazie all'aerodinamica avrà più autonomia. Intorno si parla a 700 km, chissà se quando e se questi modelli arriveranno in Italia. E soprattutto chissà quando e se mai arriverà la versione Citycar C03 che avrà circa 400 km di autonomia. Quella secondo me sarà probabilmente la svolta, almeno qui nel nostro paese. E rimaniamo sempre sulle novità, è stato avvistato per la prima volta a Nürburgring e su strada la variante GTX dell'IDiBuds. Il pacco batteria è il solito da 77 kWh ma i motori sono stati potenziati ed ora sono in grado di erogare 295 cavalli. Molto probabilmente Volkswagen ha lavorato anche sulla dinamica del veicolo con cerchio maggiorato, assetto più rigido e così via. Potete sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, io per ora non mi esprimo ancora, non ho potuto vederlo o provarlo dal vivo, ma vi farò sicuramente sapere, dato che il progetto mi interessa parecchio. E parliamo ora di qualcosa che è nell'aria da tanto, 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 tanto tempo. La nuova auto elettrica di Apple. Negli ultimi giorni è apparso sul web questo render che rappresenterebbe, secondo alcuni rumors, la nuova Apple Car. Devo dire che personalmente mi ricorda molto Hyundai Ioniq 5 e sembra anche abbastanza, diciamo, fattibile. Non so se effettivamente sarà così e non so neppure cosa Apple stia combinando, ma sono sicuro che qualcosa effettivamente stia facendo, dato che parrebbe esserci un costante investimento da parte dell'azienda nel progetto Automotive. Si parla infatti di circa un miliardo di dollari all'anno, dedicato appunto ad un team di mille professionisti dell'Automotive, presi appunto sotto l'ala di Apple in questi anni. E chissà se questo sarà il WWDC giusto. Non credo, eh. Apple ha appena lanciato il suo Next Big Thing, ossia il suo visore a realtà aumentata, e non vedo l'ora di provarlo a fondo. Voi piacerebbe una reaction magari a riguardo? So che questo è un canale Automotive, ma sono veramente super curioso di provarlo, ed essendo da quando ho memoria, appassionato di videogame, tecnologia, programmazione, sicurezza informatica, mi piacerebbe veramente tanto potervene parlare. Kia ha presentato il nuovo crossover 100% elettrico, la EV5. È una versione più economica di EV9, e sotto il punto di vista tecnico offre un solo motore in grado di erogare 218 cavalli e 310 newton metro di coppia. La velocità massima è di 185 km orari, mentre il pacco batteria è disponibile in due tagli. LFP, quindi molto bene, Kia, o NMC da 82 kWh. Non ho ancora notizie certe sul range VLTP del veicolo, ma potrei azzardare tranquillamente un 560 km. E vi terrò aggiornati, tanto quindi iscrivetevi al canale, accendete la campanellina, e se non sapete come si fa troverete il link in descrizione. Ma se mi state guardando attraverso la tv, mettete in pausa questo video, inquadrate, qua c'è un QR code, con l'applicazione fotocamera del vostro telefono, il link vi porterà direttamente alla pagina di iscrizione. E raga, più di così non so come fare. Volete che vengo direttamente a casa vostra e vi insegno come si fa a iscrivervi al canale? E continuiamo con il brand premium di Honda Acura, che ha presentato la sua prima auto elettrica. Si chiama ZDX. Non è che l'abbia presentata in realtà, ha fatto un teaser. È una specie di crossover e sotto il punto di vista tecnico offrirà un pacco batteria da 100 erotti, 102 mi pare, kWh, e motori da 300 o 500 cavalli, più o meno, 340 o 500, si parla, ecco. In base alla versione scelta, l'autonomia varierà da 523 a 463 km, mentre il picco di ricarica sarà di 190 kW. Ok, mi pare che abbia una batteria esageratamente grande per così pochi chilometri, mi sarei aspettato un ciclo voletipi di almeno 600, ma vedremo quando uscirà effettivamente. E prima di parlare del nuovo pick-up di Fiskar, lasciate che vi parli dello sponsor di oggi. C'è una sorpresa! Sto parlando di NordVPN, che prima di tutto mi va di ringraziare, perché mi supporta praticamente da quando avevo 10.000 iscritti. Quindi veramente grazie, grazie, grazie ragazzi, e grazie a voi che comprate attraverso il mio codice, altrimenti non sarebbe successo. Quando ancora in pochi mi conoscevano, loro già mi stavano aiutando, e posso dire con certezza che se non ci fosse stata NordVPN, alcune cose su questo canale non sarebbero potute accadere. Circa tre anni fa, quindi, ho cominciato ad usare assiduamente il loro servizio, perché se ve ne devo parlare, ve lo devo sponsorizzare, in ogni caso io lo devo testare a fondo, e devo anche esserne felice. In pratica, da tre anni a questa parte, ormai ogni volta che apro una connessione ad internet, questa è protetta da possibili attacchi hacker, sia che si tratti del mio computer di casa, della mia televisione, e chiaramente anche del mio smartphone, ovviamente, attraverso l'applicazione e il servizio di NordVPN. Io ho scelto l'abbonamento di due anni, che oggi costa veramente pochissimo, e oltretutto, come vi dicevo in apertura, c'è in atto una promozione molto interessante. I nuovi utenti che decidono di sottoscrivere un abbonamento otterranno anche una gift card Amazon da 10, 20 o 30 euro, in base alla tipologia di abbonamento sottoscritto, quella di due anni, ma solo fino al primo di ottobre. Quindi, mi raccomando, ragazzi, se avete in mente di farvi una VPN, ci state pensando, non lo so, andate su www.nordupn.com slash Matteo Valenza. Ed ecco le nuove foto di quello che sarà il nuovo pick-up di Fisker, pronto per entrare nel mercato e spintonare Rivian e di Tesla Cybertruck. Il suo nome è Alaska, a pacchi batteria da 75 o 113 kilowattora, con rispettiva autonomia di 370 e 547 chilometri. La variante base copre lo 0-100 in 7,2 secondi, mentre la più spinta scende a soli 3,9. Il prezzo di partenza dovrebbe essere intorno ai 45.400 dollari, direi un buon prezzo, anche se però in America se lo aspettavano più economico. Torniamo nel vecchio continente con una nuova Mercedes elettrica, la EQA in variante berlina. Sì, finalmente è stata avvistata, anche se con la solida livrea misteriosa, ma si possono anche capire un po' le forme e le dimensioni. A differenza degli altri modelli di Mercedes-Benz, questa EQA berlina dovrebbe essere basata su una nuova piattaforma MMA, quindi sarà più efficiente. Alcuni rumors non confermati dicono che questa vettura sarà commercializzata durante il 2025 e spero che almeno a noi giornalisti la faranno provare in versione pre-release. Ragazzi, siamo solo a metà del video, mancano ancora tante nuove auto elettriche, quindi mettete like, così perché oggi ancora non vi ho chiesto di fare niente, no? Sì dai, lo so che fa caldo, però un bel like. Il marchio inglese Caterham ha presentato ufficialmente la nuova Project 5, è una 2 più 2 che promette alte performance, 400 km di autonomia, peso limitato a soli 1200 kg. Mi direi niente male, però ancora non si sanno i dati tecnici, quindi iscrivetevi al canale. E chissà se mai arriverà in Europa questo marchio cinese, Zhihue, hanno presentato una nuova auto, in modo molto originale. Si chiama 01 ed è una specie di crossover basato sulla piattaforma Si, utilizzata anche su Smart, quindi con i medesimi dati tecnici. Che ne dite? Vi piace? Beh, non male. E secondo l'agenzia che controlla e lista l'efficienza dei veicoli elettrici in Nord America, sembrerebbe stia per arrivare una nuova versione di Mustang Mach-E, con cerchi da 18 pollici, pacco batterie LFP e trazione posteriore. Le stime di autonomia si aggirano intorno ai 402 km, con batteria da 72 kWh utilizzabili. Chissà se arriverà anche in Italia, sarei proprio proprio curioso di provarla nella mia sfida dei 1000 km. E continuiamo a parlare di auto elettriche. Pininfarina ha presentato la B95, che ad oggi, forse, è l'auto elettrica più costosa al mondo. Offre 1877 cavalli, 2360 newton metro di coppia, 0 a 100 in meno di due secondi e velocità massima sopra i 300 km orari. La ricarica in DC tocca i 270 kW di potenza ed in 25 minuti si ricaricherà quindi dal 20 all'80%. Ok, ma qual è il prezzo? Beh, solo 4,4 milioni di euro. Non rientra gli incentivi per... E attenzione, perché anche Lamborghini, come vi accennavo qualche settimana fa, ha presentato la sua prima e nuova auto elettrica. È una Gran Turismo, una 2 più 2. Il suo nome è Lansador e, al di là del design interno ed esterno, che è unico, garantirà 1300 cavalli, piattaforma SSP. La commercializzazione verrà durante il 2025 e chissà se manterrà sound o altre cose strane, tipo cambio. Ma, non so, a voi piacerebbe? Ma veniamo ora all'angolino Tesla. Dopo Model S è arrivata anche la Model X, in allestimento standard range, con 515 km di autonomia, 0 a 100 in 3,7 secondi e 491 cavalli. E il prezzo? Beh, come Model S standard, ossia 10.000 euro inferiore alla versione long range. Secondo voi, ha senso? Se una persona oggi decidisse, diciamo lì, di metter giù 90k per comprarsi una Model S e una Model X, dato il prezzo comunque è molto alto, dite che acquisterebbe una versione standard range? E già che stiamo parlando di Tesla, ecco un nuovo video del Cybertruck, dove si vedono chiaramente le quattro ruote sterzanti in azione. In risposta al tweet di questo video, Elon ha commentato che l'angolo di sterzata sarà migliore di quello di Model Y. E lo speriamo, anche perché neanche Model Y brilla per le mannevolezzezza. Vero? Volevo dire maneggevolezza. Però non mi è venuto. Comunque, prima di chiudere con Tesla, volevo parlarvi del nuovo aggiornamento dell'app. Ora infatti è possibile, senza nessuna applicazione di terze parti, e quindi senza condividere password e codici di accesso, se avete un iPhone, potrete andare a configurare degli shortcut molto interessanti. Quindi vi basterà solo premere un pulsantino sulla home page del vostro telefono, per esempio per aprire lo sportellino di ricarica, accendere il riscaldamento, aprire il cofano, aprire il baule, e tanto tanto altro. Ovviamente lo potete fare anche con Siri. Il nostro amico Andrea Cornali ha scritto un interessantissimo articolo su elettronauti.it spiegando esattamente passaggio per passaggio come si fa. Inutile dirvelo, quindi andate a darci un'occhiata, trovate in descrizione il link diretto, o in caso andate su elettronauti.it e utilizzate la funzione di cerca. Fisker ha annunciato che anche lei presto si convertirà allo standard NACS, giusto per finire le notizie su Tesla, eh? Tesla rule. Ed ora, la rubrica che più di tutti amate, e non sto parlando di quando faccio errori madornali, quella è dopo, ora ci sono le news a raffica. L'hypercar elettrica più potente del mondo, la Rimac Neveira da 1914 CV, ha stabilito un nuovo record mondiale al Nürburgring per quanto riguarda il tempo sul giro da 20,8 km di auto prodotte in serie omologate su strada. Il pilota Martin Kodrick ha segnato un tempo di soli 7 minuti e 5 secondi, ben 20 secondi più veloce del precedente record, segnato da Model S Plaid Track Package. Niente male. Pearl Hsu, portavoce di Google, ha annunciato che presto sarà possibile disabilitare la visione del ping sulla mappa che rappresentano gli odiati distributori di benzina. Mamma mia. Così da poter vedere direttamente sullo schermo dell'auto, tramite Android Auto, le colonnine di ricarica per auto elettriche che già ad oggi sono filtrabili per lente, medie e veloci. Jaguar ha affermato che la produzione della I-Pace verrà terminata per sempre durante il 2025, come per altri modelli termici, per dare spazio a nuovi progetti e linee di costruzione di auto elettriche future su nuove piattaforme. Bene. E attenzione a Cuttle, che ha presentato in anteprima un nuovo tipo di pacco batteria chiamato LFP4C, che si ricaricherà completamente in solamente 15 minuti e che garantirà un'autonomia fino a 700 km. Per più informazioni certe però, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. All'entronauti, noi ci vediamo al prossimo video. Non mancate? Negli ultimi giorni è apperso. È apperso. È apperso. Yeah. È apperso. Blu non guardarmi così che poi mi fai ridere. Mentre il pacco. Mentre il pacco. Mentre il pacco. Io c'ho il pacco. Io c'ho il pacco. Io bro. Motherfucker. Non puoi dirlo forte, Samir. Motherfucker. Spiegando esattamente passaggio per passaggio come si fa. Inutile div... Inutile div... Inutile div... Ehi! Inutile div... Inutile div... Inutile div... Inutile div...